Bella a tutti ragazzi, eccomi in un nuovo video, in questo video sono su minecraft farò vedere un po' di sdrogo su minecraft senza senso c'è anche Dani in facetime sono le 10 di sera e c'è un sdrogo molto epico nell'aria e partiamo subito quindi partiamo esatto, prendiamo della dinamite così ando e un accendino, vediamo se lo trovo ma se mi sentite la gara è normale esatto, perché c'è la rete che non intanto brilla quindi arrivano le notifiche togliere perché sennò ci da fare un cittadino copyright quindi troia ma l'avato non si vedono però non si sente il rumore, coi***o e vabbè, cosa ci ti possono dire vabbè, fidati un canale lo faccio una cosa poi va in mezzo ai lacciati ecco con i blocchi d'oro così ma si ma si facciamo tipo una torretta stupida e poi la distruggiamo cosa è la prima volta che la portiamo a microsoft? su questo canale si e voi voglio andare a vedere si ma col portale di diamante non c'è di oro non penso che succeda niente e come veri sto facendo una costruzione senza senso adesso farò una torre gigante qua sopra e poi ci do fuoco bello bello a tutti ragazzi e bentornati da no scherzo non sto facendo sfida quindi avete brillato tutti ok ecco ora se accendiamo vediamo cosa succede vieni a questo qua video canzetta esatto sono i fratelli in tavola guardate 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 che non hanno un altro oro roto solo resto allora ci mettiamo la lama ok 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 e la ecco 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 sì andiamo un attimo la icon ok ok buon per lei come negozio di merda ok ok la icon ok ma il massimo ci devono di ok ok non è forte ok 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 goo p questo è una cosa molto ok 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 facendo la casa nella lava non ha molto senso però così i mostri non arrivano ecco quasi finita di chiedo tutta la lava ora mi chiedo il senso di tutto questo no e dico niente ok 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 sta per sboccare ragazzi quindi installatevi un vostro programma per non sboccare ora che ho messo un po' di blocchi a caso posso sfondare il tetto e provare guardiamo che siamo riusciti a uscire dalla struttura sediamo fuoco ai polli ok perchè i polli mi stanno antipatici guardate lui si butta dentro la caverna ci sono gli zombie e li tira la lava guardate lo che c'è dice lo zombie anzi i zombie ma lui mi vallico la lava e ve lo butto e ve lo butto ecco qua vediamo che adesso forniamo un tipo 40 blocchi di sediano random il mostro ok ragazzi sono vivo sto mangiando quello che restava dei i campi valli guardatelo guardatelo come continua a fare ossidiana inutile e adesso non so cosa fare dopo questa montagna cioè le metto un po' di dinamite un po' sparsa così la faccio saltare lui semina dinamite esatto sono un contadino mi chiamo Arturo e sono un contadino mi chiamano il mio paese ma non tutti non ci ha detto a farlo zappatelo a 14 e non ci sono i nuovi video in cui vi farò vedere come era rotto ecco fatta la super fail l'ha preso fuoco tutto vabbè raga per costruire tutto dato che era un video stupido e alla prossima bella bella Grazie.